Va bene, Sebastiano, scusate se abbiamo un po' un, come dire, un incipit veloce, ma dobbiamo anche un po' sbrigarci di questi tempi. Va, io sono pronto. Vi leggo le nomination di questa categoria, della categoria telefilm e sitcom. Abbiamo Casa Vianello, Canale 5, il commissario Rex Rai 1, IAR, Medici in prima linea Rai 2. Vuoi dirci chi ha vinto per questa categoria? Io tifo fortemente per delle persone che mi stanno molto a cuore, spero che siano loro a vincere, anche perché tra le mie prime cose c'è proprio una sitcom, Vianello, Casa Vianello. Casa Vianello, ritiro il mio premio, Sandro Mondaini e Raimondo, eccomi. Welcome. Buonasera, il nostro si può dire che è un ricongiungimento. Buonasera, un ricongiungimento. Buonasera Raimondo, buonasera, benvenuto, complimenti. Sandra. Ciao. Chi sono? Un usciere questa sera. No, prego, prego, rimani pure in mezzo. Chi ritira, chi ritira dei due? Chi ritira? Beh, uno deve ritirare. Tira lui. Raimondo, ritira il premio. Ritiri tu? Sì, chi lo merita? Ma non cambi mai. Ho detto, può anche... Ritirati, dato che ti sei anche ritirato proprio, ritira, ritira. Ma tu non ti vedi? No, non so se si riesce... No, lei è in splendida forma, scusate. Sì, 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 figurati prima. Senti Sandra, te non sai come io ho conosciuto il tuo amico. Cos'hai detto? No, dico, se adesso è tale, figurati prima. Va bene. Cosa devi dire? No, devo dire una cosa che Sandra non sa, è che tu forse non ti ricordi. Ma noi abbiamo fatto un film da premio Oscar. Io me lo ricordo. Perché te lo ricordi? Ah, lo so io. C'era una scena di sesso, forse, aspetta. Allora, no, allora, entriamo sul set, il primo giorno, dici, molto piacere, io sono Raffaella, molto piacere, io sono Raimondo, e la prima scena che abbiamo fatto è questa qui. Ragazzi, un imbarazzo impressionante. La vediamo? Vediamo un attimo. Vediamo se mi imbarazzino. La prima scena è il primo giorno, eh? Ah! Bella! Ma Raimondo! Ma io ero una scena di ricordi. Sì, ma... Che bacio a tolto! Ma sei un pezzo di ghiaccio. Ma che cosa vuoi dire? Che c'è più soddisfazione a baciare la statua della libertà. Hai capito come mi hai trattato? Ah! Ah! Ma ci sono reperti. Sono reperti archeologici. No, quando è... C'è rimasta incantata, non c'è più niente. No, no. È davvero? Ma era un film, Sandra, eri a casa. Era un film, non ero a casa. Ah, ero a casa, ero a casa. Quando è che ti ha baciato invece nella vita, veramente? Come mai? No, c'è stata una volta. Sì, c'è stata una volta e poi non c'è stata più, perché lui non è sentimentale. Io lo sono, eravamo a Livorno, erano i primi giorni, allora ho detto, dopo ho mangiato, facevamo lo spettacolo alle due del mattino, uscendo dal ristorante. Da Mumbasini? No, ho detto andiamo in riva al mare a darci un bacio. Andiamo in riva al mare, a Livorno, sempre lì. E a un certo punto io chiudo gli occhi, sento un gran fracasso, era arrivato un'onda anomala che l'aveva preso in pieno, solo lui però, a me niente, e da quella volta... Non t'ha più voluto baciare. No, basta, Raimondo, no. Era un segno del destino. Senti, Raimondo, quando è l'ultima volta che hai detto ti amo a Sandra? Adesso su due piedi. Lì a Livorno, forse. Sì, forse... Quella sera là dell'onda. Quella dell'onda. E come mai siete insieme da tantissimi anni, allora? Vuol dire che c'è... Come... Sandra è pazientissima. Molto. Eh? È vero? Adesso non entriamo nel drammatico. Siamo una coppia felice. No, noi non ce lo diciamo tanto. Siamo una coppia felice. Basta guardarmi meglio. A proposito di coppie felici, ma la gestione della televisione in casa, visto che stasera parliamo di tv, il telecomando, chi ce l'ha? O per non litigare ciascuno c'è la sua televisione? No, no, noi abbiamo adottato fin dai primi tempi, da quando lui ha cominciato a girare il film con Raffaella, di fare una cosa, di... separare. Anche la televisione? No, no, per comodità, separare le camere, separare le televisioni, perché era tutto un brontolare. Così ognuno fa la sua vita, lui si vede il suo calcio, io mi vedo i miei giochini. Tu cosa ti vedi? Ti vedi passaparola, ad esempio? Lui passaparola... Scusi, no, era un casuale. Ma signora, ah, va bene. No, passaparola la vedo, passaparola la vedo. Vedi Mike anche, è che è inquadrato adesso. Ma sì, ma io parlo ragazzi, voi siete miei compagni, abbiamo la stessa età. E i reality show li guardate, questo volevo chiedervi. Quello anch'io me lo chiedevo. Sì. Sì, ma... Sì o no? Sì, anche. Sì, fa parte della... Sì, non mi guardare, io non ho fatto i reality show. No, a me se non mi fa schifo, li guardo. No, schifo nel senso di bestie, di robe... No, a me se non mi fa... Cosa significa questo premio per voi due? Perché... Significa un premio al nostro coraggio. Io dico perché abbiamo tentato questa strada nuova... che era... Era... Era difficile. Era rischiosa, eh. Era un po' rischiosa, ma... Volevamo aprire una nuova via. Quindi vi vedremo per i prossimi. E allora adesso, gli anni, sì. Sì, stanno preparando. Sì. Va bene, io penso... No, ma ti dirò vuol dire anche molto perché aver avuto questo telegatto significa non aver avuto il telegatto alla carriera che ci danno un anno, sì, un anno, no. Allora... No, qui c'è Gerry che freme per mandarci via perché ci sono altri premiati. Sì, no, no. Io solo una cosa. Voglio, come sempre, la solita banalità ma che è necessaria. Ringraziare tutti quelli che hanno lavorato con noi in questi vent'anni di Casa Pianello. Tutto lo studio. Lo studio, lo studio, lo studio, lo studio, lo studio. Grazie. Grazie. A tra poco. Grazie. Tanti auguri. Con la notte dei telegatti. A me. A me. A chi volete. Ci vediamo tra poco, grazie. Eh, Casa Pianello. È bene.